Nuove indagini sulla discarica di Chiaiano Percolato nel sottosuolo Questa l'accusa che ha portato il procuratore di Napoli, Gian Domenico Lepore, i sostituti, Antonello Ardituro e Marco Del Gaudio a emettere gli 11 avvisi di garanzia nell'ambito delle indagini sul sito della periferia Nord Il provvedimento riguarda la società IBI, che gestisce la discarica e altri impianti in Campania e Sicilia e la Edilcar, che ha ottenuto il subappalto L'ipotesi formulata dai magistrati riguarda il controllo delle società la prima già destinataria di un'interdittiva antimafia attraverso le quali i clan camorristici Mallardo e Zagaria avrebbero controllato lo sversamento dei rifiuti e i relativi appalti Agli atti dell'inchiesta ci sono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia tra cui l'ex imprenditore del settore dei rifiuti, Gaetano Vassallo Agli indagati vengono contestati reati di traffico di rifiuti e frode in pubbliche forniture Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del Noe, quando si decise di allestire una discarica nella cava precedentemente adibita a poligono di tiro venne usato materiale di qualità scadente per impermeabilizzare il suolo In particolare si fece uso di argilla estratta abusivamente nel Salernitano L'utilizzo di materiali scadenti ha reso il suolo permeabile ed ha facilitato il passaggio del percolato finito nel sottosuolo Nel corso dell'operazione i militari hanno sequestrato un'altra discarica di 15.000 m2 a Giuliano di proprietà della famiglia Carandente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti